Ciao, allora, Silo nasce un sacco di anni fa, in realtà una decina di anni fa, forse pure di più, una dozzina. Sono un cantante, faccio musica, è uscito il mio nuovo album, si chiama Onde, quindi andatela ad ascoltare. Allora, la lavorazione del disco è stata una lunga lavorazione, ci abbiamo messo due anni a fare questo disco con Guairi e gli altri produttori che hanno lavorato con me, che ringrazio tutti. Sì, è stata, diciamo, poi con questo anche covid finale, una lavorazione molto sudata, che però ci ha portato a fare, insomma, a essere veramente soddisfatti di questo lavoro che abbiamo fatto, che poi è uscito, insomma, è Onde. Non c'è una forma unica in cui scrivo i brani, sicuramente sono le ispirazioni e le influenze musicali e non solo che ho da tutti i giorni, che mi portano a fare la musica, a farla in questo modo. Sicuramente il modo, la situazione in cui sono più ispirato è quando sto nel mio studio, per i fatti miei, insomma, a produrre musica, ecco. L'etichetta, sicuramente la cosa fondamentale che ha fatto è stata abbracciare questo progetto in toto, a 360 gradi e portandolo a un livello successivo di produzione, completandolo in qualche modo, aiutandoci a completare questa visione che avevamo e che abbiamo portato avanti, grazie anche all'apporto che ha dato Metro Beats. Dal punto di vista musicale, gli ascolti che mi hanno influenzato di più sono sicuramente quelli che ho fatto negli ultimi tre anni di quello che è stato prodotto ed è uscito dalla Nigeria, cioè questo Afrobeats, Afropop, che è uscito fortissimo, è una corrente veramente grande di artisti. Dal punto di vista musicale, queste delle sonorità, oltre ovviamente alla musica jamaicana, che rimane una grande fonte di ispirazione per me. Dal punto di vista della scrittura, invece, chiaramente è stato importante guardarmi intorno su quello che succedeva nel nostro paese, che comunque ha ritirato fuori, secondo me, una grande scuola di autori, di cantautori, che mi ha veramente ispirato a volerne far parte, insomma. Beh, sicuramente il featuring con Roy Pachi è fonte di grande soddisfazione per tutti noi, per quello che rappresenta per il mio percorso musicale. E se ti dovessi dire un featuring dei sogni, lo vorrei fare con Poccan. Ciao a tutti, sono Silo, andate a ascoltare Onde, grazie a tutti i ragazzi di Indiffusione. Bella!